pausa caffè oggi vediamo come creare l'effetto eco tra l'altro a mezze maniche perché inizia a fare caldo andiamo subito su premiere mi avete chiesto di vedere come realizzare un effetto eco o un reverb adesso vi faccio vedere anche le differenze ci giriamo andiamo su premiere vi faccio vedere questo è il mio progetto allora il pezzo era questo praticamente è la voce di rocky i migliacchi fanno così e tu non lo sai non lo sai affatto io avevo la necessità di creare un effetto eco sopra l'ultima parola modifica clip in adobe audition si apre la mia clip su adobe audition ed è questa qui allora diciamo innanzitutto che vorrei conoscere il genio che crea questi titoli pericolo cliché fantascienza in arrivo telefono molleggiato va beh allora iniziamo con un riverbero io quello che utilizzo sempre è il riverbero da studio questo qua quindi clicco tra tutti questi qua quello che uso io è gran sala praticamente è già un buon preset e lo lascio così com'è quello che però avete ascoltato nel video della panasonic è questo qui eco e poi delay analogico ho fatto questo me la s a propria imperro semplicemente mi ritrovo quello che ho fatto prima veloce facile intuitivo ecco o riverbero, pausa caffè ciao